Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Kamer. La migliore medicina per dimenticare l'eliminazione della Coppa Italia era tornare subito a vincere e il Sondro l'ha fatto, passando sul campo della Visnova Giussano, nonostante le numerose assenze. 3-1 il finale, con reti di Maras, Boschetti e Martinez. Il successo esterno, in coincidenza con il pareggio per 2-2 del mappello a Tribiano, proietta così Biancoazzurri il primo posto solitario del Girone B di eccellenza. Ed era la terza partita di un trend che ci ha visto giocare 12 partite in 49 giorni, quindi i ragazzi sono stati straordinari, hanno fatto una partita su altissimi livelli, sia di qualità che di prestanza fisica. Sondro Capolista, con ragguardo i prossimi impegni, a iniziare dalla sfida casalinga con l'Arcelasco. Il campionato è ancora lunghissimo, la pausa invernale come sempre potrebbe rimescolare le carte, ma Fraschetti, nelle prossime settimane, recupererà anche giocatori importanti. Però ero strasicuro che avremmo fatto una grande partita, e lo dico da sempre, ma forse oggi ancora più di sempre, dico che sono davvero orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi.